Sì, allora, è interessante la parola no-till o no-dig perché sono, come spesso capita, una definizione al negativo, definire una pratica per quello che non è è sempre un pochino problematico. Poi till è una parola abbastanza controversa, nel senso che può essere tradotta come aratura o lavorazione del terreno. Ora stavo traducendo un libro negli ultimi tempi, c'è stata una discussione con l'editore che diceva, ma non puoi usare la parola disturbo, devi usare la parola lavorazione. Però per me la parola giusta è disturbo, per vari motivi, soprattutto ecologici, perché quando uno dice no-till intende non disturbare il terreno più di quanto non sia necessario, che quindi è una definizione molto vaga, nel senso che in certi contesti il disturbo può essere anche più profondo che in altri, perché non ci dobbiamo dimenticare che queste sono tecniche e quindi devono essere finalizzate a un obiettivo preciso, non è che hanno in se stesse un valore, lo hanno nella misura nella quale ci portano verso un obiettivo che abbiamo. Quindi a me piace parlare spesso di orticoltura rigenerativa, invece che di no-till, perché c'è un paradigma, diciamo, positivo che si può strutturare intorno a dei principi chiave, che non sono tecniche, ma sono principi che poi possono manifestarsi in vari modi nella pratica, quando uno va ad adottare le tecniche. E due dei principi che noi consideriamo fondanti del nostro modo di lavorare, rigenerativo, sono il fatto di disturbare il terreno il meno possibile, proprio in questi termini, usando la parola disturbare, e di mantenerlo sempre coperto. E secondo me questi due in sé sono l'essenza di quello che poi quando viene applicato si chiama no-till. Poi, come dicevo prima, c'è stata negli anni un'evoluzione di questi termini. No-till viene spesso usato in contesto americano per riferirsi anche a quella che qui si chiama l'agricoltura conservativa. In Italia c'è questo tipo di agricoltura che non usa, non lavora il terreno, che però spesso si avvale di erbicidi e anche sostanze che non sono contemplate nel biologico. E quindi si soffermano molto sul non lavorare il terreno, ma non necessariamente su tutto il resto dell'approccio rigenerativo. Adesso si parla di organic no-till, spesso in America, per differenziare l'approccio biologico no-till. Poi è emerso negli ultimi anni invece il termine no-dig, che è stato lanciato da Charles Dowding in Inghilterra. Ed è un modo specifico di fare no-till che si avvale dell'uso di una pacciamatura molto pesante. Cioè quello che a volte viene chiamato deep mulch, o pacciamatura profonda, e che spesso ci si riferisce in maniera più stringata con il termine no-dig. Quindi quello è soltanto in realtà un modo di fare no-till, perché, torno sulla definizione iniziale, la chiave per definire una cosa no-till, secondo me, è che uno disturba il terreno il meno possibile, o cioè soltanto il necessario per raggiungere il proprio obiettivo. Poi è chiaro che qual è lo scopo di non lavorare il terreno, di non disturbarlo oltre il necessario? Lo scopo è quello di preservare la componente viva del suolo, la sua componente microbiologica, ma anche la sua struttura e la sua integrità biochimica. Perché nel momento in cui andiamo a lavorare il terreno con una lavorazione molto invasiva, e quindi penso ad una ratura seguita da una fresatura, per esempio, quello che avviene, uno, l'inversione degli strati degli orizzonti del suolo, quindi quello che era sotto va sopra e quello che era sopra va sotto. E questo fa ripartire da zero su quei processi ecologici, biochimici, che hanno portato a quella sedimentazione, quella strutturazione del suolo in strati, devono ripartire da zero e quindi, diciamo, è come aver annullato il lavoro che la natura o il sistema aveva fatto nel tempo. E poi il secondo problema è che uno va a iperossidare il suolo, cioè nel momento in cui vai a fresare il terreno, rompi tutti gli aggregati, e quindi peggiori la struttura del suolo. E ogni piccolo aggregato, ogni piccola particella di suolo che hai creato, diciamo, rompendo questi aggregati, è esposta sulla sua superficie laterale all'ossigeno. Questo potrebbe sembrare una cosa positiva, ma come sappiamo nella pratica spesso si traduce in un disastro, perché nel momento in cui tutto quell'ossigeno è immesso nel terreno, la materia organica si ossida, e questo è il risultato della microbiologia che digerisce quello che ha a disposizione e parte del processo, produce CO2, quindi il carbone viene legato all'ossigeno e va via nell'atmosfera dove noi vogliamo. E poi l'altro problema è che tutti quei poli che si sono creati all'inizio pieni d'aria, poi vengono a riempirsi d'acqua, e quindi l'impatto che ha l'acqua, la precipitazione o l'irrigazione sul terreno è devastante dopo. Quindi abbiamo questo terreno che ci sembra in tempo a bellissimo fine, e poi dopo le prime precipitazioni si va a compattare e diventa prima cemento e poi fango, che è un tipico scenario, diciamo, di agricoltura convenzionale, a cui molti si sono abituati e che credono debba essere la norma. Quindi questi sono alcuni dei motivi per cui nella pratica noi agricoltori cerchiamo di lavorare il terreno il meno possibile, a prescindere dalla motivazione etica o rigenerativa, perché nel tempo si nota che se lavori il terreno nel momento sbagliato, o nel modo sbagliato, hai questi effetti negativi. Poi un'altra cosa che volevo dire, prima magari di lanciare un pochino nella mischia un po' di domande, c'è spesso un approccio molto dogmatico a questo tipo di cosa, no? Chi fa no digo, no till, a volte enfatizza il fatto che il suo modo di lavorare è più virtuoso degli altri. Questo avviene nel biologico, avviene nel rigenerativo, ma un po' in tutti i casi uno cerca di portare acqua al proprio mulino. Questo secondo me, oltre ad essere un approccio proprio fondamentalmente sbagliato nella comunicazione, perché tende a dividere invece che a sottolineare il fatto che poi tutti quanti abbiamo a cuore la salute di chi mangia i nostri prodotti, del nostro suolo, del nostro ecosistema, è anche un pochino pericoloso, perché i contesti sono molto importanti nel modo in cui poi uno va a mettere in pratica quei due principi, perché se uno va a fare no dig, e quindi sto pensando a un sistema in cui c'è zero lavorazioni del terreno, proprio zero, neanche decompattazione, neanche arieggiamento con grelinetto, con ripuntatore, e mette una mole di compost importante sul terreno una volta all'anno, quindi deep mulch. Quel tipo di lavoro là funziona bene in certi climi, e penso a climi dove la pluviometria è molto alta e il tasso di ossidazione è molto basso, e soprattutto anche l'irreggiamento non è pesante, quindi al nord, dove comunque in estate il fatto di avere un materiale sciolto, nero, non è un limite, ma anzi è un vantaggio, e poi i terreni che sono molto argillosi, che meno li tocchi e meglio è, come dice il nostro amico Massimo Raimondi, che tutti noi che quando abbiamo lavorato con i terreni argillosi ci siamo accorti che c'è una grande tentazione di lavorarli quando sono in tempera, però sappiamo che quasi mai, cioè è come sempre se li portassimo un pochino indietro e poi dobbiamo lasciargli abbastanza tempo per andare avanti, è molto difficile lavorare con un terreno argilloso, e il modo migliore nella mia esperienza di lavorare con un terreno argilloso è proprio non toccarlo quasi mai, se non proprio quando è indispensabile. Questo però non vuol dire che questi due, quello che funziona benissimo in questi contesti qui, che sono peraltro quelli dei grandi guru di questo movimento qua, non a caso, voglia dire che uno può trasferire questa cosa in tutti i contesti, in tutti i climi, in tutte le condizioni, anche solo di mercato e culturali, perché per esempio ci sono anche delle risorse che potrebbero non essere disponibili nel contesto in cui lavoriamo, quindi magari invece che il compost dobbiamo usare un ammendante diverso, oppure non possiamo usare nessun ammendante perché siamo lontani da tutta questa produzione di materia organica di scarbo. Grazie.